A presto, a presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto. 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 A presto, a presto, a presto. 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 Grazie. 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 Invece sarà il segno che i compagnoli a noi, che credo bene, nel non escarciare il mondo, parola che non è il futuro, prenderà la mia famosa estrella, che si era l'argomento, non regerà l'argomento e l'argomento all'argomento e l'estitura d'argomento. Il Signore Gesù, dopo aver guardato la mia famosa estrella del cielo, il sedente ha la mia famosa estrella del mondo. Allora il sacramento è predicato la mia famosa estrella, mentre il Signore trama insieme il futuro e contattava la parola con i codici della parola. E' un'altra cosa che è la mia famosa estrella del mondo. E' un'altra cosa che è la mia famosa estrella del mondo. non è solo il mondo, ma in modo per trovare le persone nella nostra comunità, per noi, per cristiana e parrocchiana, siamo consuluti da pregare anche per il nostro padre, per vivere la vita della nostra comunità parrocchiana, la vita della nostra comunità bellissima. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.